Ciao Giorno dell'Inkida, oggi faremo una caccia al tesoro e questo qua è il primo indizio Sotto la palma più grande troverete la prima traccia La palma più grande è questa Eh, io voglio vedere in quale Ecco Volevo vedere in quale Tieni bene Ecco io Ok Cosa serve al mugnaio per trasformare il grano in farina Ah, mulino, giusto Questo è il mugnaio Eh Vediamo se non è tra i matici Non è in mezzo alle pale No Ma forse qua dentro Ah ah Trovato Vai al bancone e cerca Eh, tu cos'è che l'elefantino L'elefantino? Sì, l'elefantino 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 Scusate il ponte e raggiungete il drago per scivolare giù il parco. Scusate il ponte e raggiungete il drago per scivolare giù il drago per scivolare giù il drago per scivolare giù il drago per scivolare giù. Siete quasi giunti al tesoro, ritornate al ponte e superatelo. Contate dieci passi a sinistra ed entrate in una stanza buia. Allora, dice se ci passi a sinistra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Allora, dice se ci passi a sinistra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Allora, dice se ci passi a sinistra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ma dai uno scherzo, c'è il tesoro qua! Ah, chi è? Chi è? Chi è? Mia, mia! Tutto mio! Andiamo su un altro tavolo che ci sia più luce! Tieni! C'è la bambola! New! New bambola! Supero slime! Eh, eh, no! Non provarci! Voglio guardarci... Eh, lasciamo di qua! Nessuno li deve toccare! No, mettete lì dentro la scatola! Allora, ora decidiamo chi tiene gli slime! Eh, fermi! Allora, uno... Aspetta, prendi... Aspettiamo la testa! Non toccate! No, aspetta... Allora... Allora... Ho dentro messo che c'è qualcosa... No... Guarda quanto c'è solo! No, sì... Li abbiamo... Allora... Complicato! Oh! Tan... 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 Come sta andando con gli slime? Molti bene! Oh! Oh! Fammi un po' squisciare... C'è l'utiloso! Non so... È sta roba! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! 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 Ciao!